Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online A Dubai In questo momento Tra l'altro proprio il mister Oggi alle 12 circa Sarà protagonista di una conferenza stampa Che manderemo in diretta A audio e video Attraverso Roma TV Ovviamente I ragazzi sono giù In zona inirati Quindi sono Sono in questo momento Mi dicono Una quarantina di gradi Questa dovrebbe essere la temperatura E c'è questa partita di fine anno Questa Kermes Che insomma mette un po' il sigillo non ufficiale Perché il sigillo ufficiale c'è stato A Milano Ma mette questo sigillo non ufficiale Che fa questa stagione Mentre ovviamente Da queste parti Come voleva si dimostrare È già partita È già partita la rumba È partita la rumba Perché Conosce Roma Questo è proprio il classico titolo Del Corriere dello Sport È fantastico Roma Dragovic Che vuol dire Adesso mi dici di che vuol dire No no che vuol dire Roma Dragovic 1 a 0 Ma vuol dire tutto Roma Dragovic 2 a 1 Roma Dragovic è Cioè Roma di Burtina Roma Termini Roma Dragovic Questa prima Che cosa vuol dire Roma Dragovic Volevo dire che riuscire a centrale di Alvino Diremo che fa il primo obiettivo E certo perché Sia Sabatini Che Spalletti Che Baldissoni Si sono messi a parlare di mercato Con i ragazzi C'è il nostro primo obiettivo Lo potete tranquillamente scrivere Nel giornale Questo www.pronosticonline.com Tutti i venerdì In esclusiva I pronostici Del Mago Alberto Inoltre Elp Serie A Elp Premier League Elp Liga Elp Bundesliga Tutte le curiosità Le statistiche I precedenti E i consigli Dei nostri esperti Partita per partita Per passare alla cassa Su pronosticonline.com Trovate anche I consigli Per il fantacalcio Di Emiliano Donati Pronosticonline.com Vi ricorda Che scommettere E' vietato Ai minori Di 18 anni Scommettete sempre Responsabilmente